Le Smart di domani passano dalla 4Speed, una Spider che ricorda la Crossblade del 2002, ma che non darà vita ad un modello di serie. La concept car che il marchio tedesco presenta a Ginevra, infatti, serve unicamente ad anticipare lo stile delle prossime generazioni smart, che saranno tondeggianti a due e a quattro posti, grazie alla condivisione delle piattaforme con Renault. Le Smart che vedremo dal 2013 in avanti saranno soprattutto elettriche, come l'attuale EDI, anche la 4Speed è spinta da un motore elettrico da 30 kW, che permette di raggiungere i 120 km orari alimentato da batterie a litio da 16.5 kWh. A Ginevra debuta anche la 4TU Cabrio Edition Night Orange, edizione speciale in una inedita tinta arancia shocking e dotazione full optional.